Coppie dell'Esposizione Internazionale di Verona 2016 Greyhound Weimarane a rappello corto Border Collie Welsh Springer Spaniel Welsh Corgi Enbroke Staffordshire Bull Terrier Bichon Frise Schipperke Fino Italiano Va sotto nano a pelo duro In questo caso Il nostro giudice valuta L'assortimento della coppia La tipicità di razza Con i piccoli particolari Nella struttura ossea Nell'espressione Nella forma del cranio Nella copertura del manto Che deve distinguere il maschio dalla femmina Per cui la coppia che vincerà sarà quella più vicina allo standard di razza Con un tipico dimorfismo sessuale che la caratterizza Viene scelta dal nostro giudice Ottavio Perricone la coppia di Bassotti e Nania Pelo Duro La coppia di Bichon a Poilfoiset Wesh Corgi Enbroke Border Collie e Greyhound Un grande applauso alle altre coppie Gruppi di allevamento nel pre-ring Grazie Grazie Pubblico di Verona Ci stiamo spegnendo Un bel applauso per i finalisti delle migliori coppie Suggerirei ai Gamba Corta di fare un giro ridotto Una scorciatoia Ok Chiudi il giro Chiudi il giro Chiudi il giro Bene così Chiudi il giro Ringraziamo il nostro giudice Ottavio Perricone che si reca sul podio per premiare Al terzo posto la coppia di Bassotti e Nano a Pelo Duro Al secondo posto Welsh Corgi Pembroke Sale sul gradino più alto del podio La coppia di Greyhound Grazie a tutti 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 Grazie a tutti